Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale di Pippo Quarto. Dopo due video abbastanza interessanti si ritorna sul pianeta Terra, ma lo facciamo con una fanciulla che ha dato tanto a questa trasmissione e che tanto manca ai suoi numerosissimi fan. Anche in quest'ora di diretta la bella Chiara aveva dimostrato quanto fosse simpatica e spigliata, e noi cerchiamo di dargli un senso perché altrimenti con tutti quei tagli non si capirebbe una ceppa. La bella Chiara decide di partire subito forte e spiega anche perché avrebbe poi lasciato QVC. Aveva già capito l'antifona, sapeva che prima o poi queste riprese sarebbero state rimpiazzate da una scrivania coperta, e poiché sapeva che questa nuova politica avrebbe complicato non poco la nostra vita di registratori seriali, dice apertamente che si tratta di un provvedimento poco professionale, ha provato anche a far ragionare i soci dell'azienda, ma sono arrivati allo scontro non solo verbale, ma le hanno addirittura prosciugato il suo conto in banca, e tra spese legali e quelle accessorie le sono rimasti solo 26 euro. In quel periodo poi entrò anche in crisi con il compagno, non tanto perché guadagnasse poco ma perché proprio non ce la faceva. La bella Chiara sappiamo non avere peli sulla lingua, ed infatti ammette pubblicamente che in certe situazioni speri sempre che non finisca, e invece puntualmente finisce sempre, durando non di più di mezz'ora, mentre per lei la durata minima dovrebbe essere almeno due ore. Quindi decise di lasciarlo, perché per così poco non puoi di certo uccidere tuo marino. A questo punto la dolce Chiara sorprende tutti dando il via a quella che poi diventerà quasi una moda in quello studio, ossia cambiare sponda quando le cose non vanno bene con il proprio compagno. Insomma la nostra Chiara è stata una vera e propria pioniera in tal senso, e inizia il primo approccio con la signora in studio. Dami un bacio. Ma la signora Roberta è felicemente sposata e rispedisce al mittente tutte le avance, dando però un consiglio a Chiara. Tu ti puoi fare da sola. Usando niente popo di meno che due pezzi di merluzzo ghiacciato. La cosa ovviamente suscita ilarità, e la bella Chiara si rivolge alla madre a casa. Mamma, non mi guarda. Però la nostra Chiara sembra comunque aver gradito il consiglio. Roberta che dire, è stato rilassantissimo. E Roberta le parla dei vantaggi di uscire con una donna, che è più facile da individuare in una macchina. La riconosci la macchina di una donna perché? Ragazzuoli belli anche questo video le sei finì. Grazie della visione e arrivederci al prossimo appuntamento.